Vi è già capitato di uscire dal medico o da un esame radiologico, di rientrare a casa e di avere ancora dei dubbi e delle domande da fare? Ormai è troppo tardi perché si è usciti dall'ospedale o dal centro radiologico? Nel video di oggi vorrei evitare di farvi rivivere questa fastidiosa sensazione. Quali sono le quattro domande da fare alla fine dell'esame di risonanza magnetica? Lo probabilmente avete intuito questo video è la continuazione del mio ultimo video, le sei domande da fare prima di iniziare un esame di risonanza magnetica. Lascerò qui sopra in descrizione il link al video che vi consiglio di andare a vedere se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti sono Omar, sono tecnico di radiologia medica e nel mio canale troverete video in italiano e spagnolo per informare e spiegare in modo semplice gli esami che vengono svolti in risonanza magnetica. L'ultima domanda da fare, la numero 4, è la più rassicurante. Se un centro radiologico mi desse quella possibilità sarebbe sicuramente una struttura da prendere seriamente in considerazione per svolgere l'esame di risonanza magnetica o qualsiasi esame radiologico. La prima domanda che consiglio di fare è accertarsi che l'esame sia andato bene e che si sono ottenute delle immagini ottimale. Ad esempio l'immobilità del paziente è fondamentale per ottenere delle immagini di qualità e permettere al radiologo di effettuare una diagnosi precisa. La collaborazione del paziente è molto importante in tutti gli esami radiologici, ancora di più in quelli di risonanza magnetica, visto che gli studi possono durare da 15 minuti ad oltre un'ora. In risonanza magnetica raramente gli esami sono urgenti e richiedono dei risultati immediati, ma è evidente che se risulta necessario svolgere l'esame si vuole avere i risultati al più presto. Ecco perché la seconda domanda da porre è in quanto tempo saranno disponibili i risultati dell'esame e quando il medico richiedente riceverà il referto del medico radiologo. L'ottenimento di risultati prevede due momenti d'attesa, l'attesa per svolgere l'esame e l'attesa per i risultati. L'attesa per svolgere l'esame è il tempo che intercorre dalla presa dell'appuntamento, dalla prenotazione allo svolgimento dell'esame, mentre che l'attesa dei risultati è il tempo che intercorre dalla fine dell'esame all'arrivo del referto radiologico al medico richiedente. Ecco perché al momento di prenotare la risonanza magnetica si può chiedere in quanto tempo indicativamente arriveranno i risultati dell'esame. Preferite prendere un appuntamento e svolgere l'esame il giorno dopo e attendere una settimana i risultati? Oppure preferite fare l'esame fra una settimana e ricevere i risultati il giorno dopo? Riflettete su questo e lasciatemi un commento a riguardo. È ovvio che l'ideale è fare immediatamente l'esame e ricevere i risultati il giorno dell'esame, ma come ben sapete non è così. Se per voi è importante ricevere rapidamente i risultati richiedete tutte le informazioni il giorno della prenotazione dell'esame. Se il paziente ha la possibilità di scegliere il centro radiologico valuterei il tempo che intercorre dalla prenotazione dell'esame all'ottenimento dei risultati? La terza domanda potrebbe riguardare il supporto digitale dove ricevere le immagini acquisite. Al termine della prova il paziente può ricevere, se lo richiene necessario, una pennetta usb o un cd con il suo interno le immagini acquisite durante l'esame. Mi sembra giusto precisare che su questi supporti raramente sono presenti i risultati con il referto del medico radiologo. I risultati vengono inviati in un secondo momento al medico richiedente. Ultimamente alcuni centri hanno optato per una terza possibilità molto utile e funzionale che evita di dover stampare le immagini su un supporto fisico. Esiste sempre più spesso la possibilità di inviare al medico richiedente un link via mail per poter avere accesso alle immagini del paziente direttamente dall'archivio delle immagini della radiologia scelta. Evidentemente questa possibilità è quella più ecologica perché evita di dover stampare l'esame su un supporto fisico. Inoltre evita delle lunghe attese al termine dell'esame per recuperare il cd o la pennetta usb. Valutate quale sia la soluzione più comoda per voi. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella per essere aggiornati sull'uscita dei nuovi video. È del tutto gratuito e aiuta il mio canale a crescere. Mi raccomando non dimenticatevi di cliccare su mi piace alla fine del video se avete trovato informazioni utili che stavate cercando. Presto sarà presente su youtube anche il bottone super grazie che consiste nel poter fare una piccola donazione al canale per sostenere il lavoro fatto nella creazione dei video e dei contenuti. La quarta domanda è chiedere se è possibile parlare con il medico radiologo incaricato dell'esame. È molto difficile ma se si è ansiosi e si vuole avere una rassicurazione chiedere è lecito. Centri che permettono di poter parlare con i medici al termine sono molto rari a causa dell'aumento continuo degli esami di risonanza magnetica. Durante uno studio di risonanza possono essere create migliaia di immagini e richiedere di avere i risultati appena usciti dalla risonanza magnetica è comprensibile ma molto difficile. Comunque avere la possibilità di parlare con un medico al termine dell'esame può sicuramente rassicurare un paziente ansioso e rendere l'attesa dei risultati meno complicata. Se hai ancora qualche dubbio non esitare a commentare qui sotto ti risponderò il prima possibile. Ad oggi ho risposto a tutte le domande che mi sono state fatte. Se il video ti è piaciuto non dimenticarti di cliccare su mi piace e se vuoi rimanere aggiornato iscriviti al mio canale e attiva la campanella. Un saluto e a presto per il prossimo video. Ciao!